vicino che sto no ho capito, vuol fare due sport in uno, il bullying e il cazzo guardate un po' che è tenera questa mamma che insegna al figlio a giocare a bullying a lei, il bimbo corre dietro la palla è caduto il bambino ha imparato bene, è caduto esattamente come la mamma questa sta per cadere nella trappola nel cestugno, mangia bambini questo invece va incontro a un amico, eccolo la vedete? mi l'ha incontrato fino e guardate sto besugo di un bambino vuole andare su una ruota sola, quella di dietro la ruota davanti si offese e si è andata ma è simpatico questo balletta ma perché gli ha messo il casco in casa a questo qua? ma si può sapere? adesso, adesso l'ho capito felice di ricevere questa bambola ma stringendola ha schiacciato un pulsante che la bambola si è messa a parlare che paura che ha fatta questa bimba la voce della bambola ma di chi era la voce? di Gabriella Carlucci? questo signore va a terrare il suo aeromodello bravo! e vedete? per solidarietà anche lui ha toccato terra grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!